E' iniziata con il piede giusto il cammino nel primo turno dei playoff per l'Europovini Teate. La squadra di coach Piero Cohen ha battuto nettamente 81-55 la Luis Roma, primo tempo 42-27. In casa Teate 14 punti per Ponziani e Migliori, in casa Luis Martino 15 punti, Buonaccorsi 13. Coach Cohen, il punteggio è abbastanza eloquente, però la cosa importante è che la squadra ha tenuto alta la concentrazione, credo, per tutte e 40 minuti. La gara di ritorno giovedì prossimo, volete chiuderla lì, no? Ma sai, qui tutti vogliono chiudere sempre tutto, ogni partita però fa storia sì. Oggi abbiamo vinto facile, però lo sappiamo, i playoff sono questi, sono imprevedibili, per cui è chiaro che andiamo là, ci proviamo, non ci mancherebbe altro. Come sempre è gran pubblico qui alla Palatricale. Sì, veramente un grande pubblico e voglio ringraziare veramente i tifosi che oggi ci stanno sostenendo e che sentiamo molto rumorosi. Che cosa invece, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, Cohen non è andata per il verso giusto? No, no, è inutile fare quelli che vogliono sembrare insoddisfatti a tutti i costi. Oggi siamo contenti e pensiamo alla prossima partita, come è normale che sia, però una contentezza limitata stasera perché purtroppo nei playoff bisogna saper mantenere serenità, equilibrio e non si può festeggiare. Per noi l'importante è il risultato, cioè noi siamo una squadra di dieci giocatori che siamo tutti capaci di fare punti, tocca una volta uno e una volta l'altro. L'importante è che abbiamo fatto una partita buonissima, sinceramente non ci aspettavamo una differenza così grande perché sappiamo che loro sono una squadra molto intensa e molto fisica, però siamo stati bravi a prepararla e a seguire quello che ci aveva chiesto Pier in settimana.